La Gelbison in vista della trasferta di Troina continua ad incassare il sostegno dei comuni del territorio. Questa volta è toccata a Pollica fermare la propria vicinanza all'ambizioso progetto di squadra del territorio portato avanti dai Rosso Blu. Ora sono dunque 15 i centri dell'area cilentana, oltre al Parco del Cilento, al fianco della Gelbison. Intanto ieri si è giocato il recupero tra il Rende e la città novese, valevole per la seconda giornata di campionato. La partita era stata rinviata dopo che i giallorossi qualche settimana fa avevano incontrato in amichevole il Gallico Catona, in cui era stato riscontrato un caso positivo al Covid. Il Rende, che solo domenica scorsa aveva imposto alla Gelbison lo 0-0, è crollato in casa e si è visto rifilare una goleada dalla città novese. La partita è terminata 0-4 con la squadra di Reggio Calabria portatasi, con questo risultato, al primo posto della classifica, a 7 punti al pari della Cireale. Dal canto suo la Polisportiva Santa Maria, costretta anche lei al riposo forzato, causa il Covid che ha riguardato il Castrovillari, in attesa di recuperare questa gara a mercoledì 21, è pronta a presentarsi sul campo amico del Carrano, dove nella storica gara di debutto ha vinto e convinto. E domenica potrà ritrovare anche il suo pubblico, sia pure in misura ridotta. Per l'occasione arriverà l'FC Messina, che ha deciso di esonerare l'allenatore Gabriele e ha affidato la guida tecnica Pino Rigoli, vecchia conoscenza anche del Cilento, in quanto nel 2014 guidò l'Agropoli in Serie D. Il Santa Maria del tecnico Gianluca Esposito si presenterà a questo match senza difezioni e dopo aver preparato la sfida con gli isolani, provando il classico 4-3-3. I tifosi sono pronti, dopo oltre sette mesi, a riabbracciare i propri beniamini.